Musica Capoliveri ricorre al tribunale contro il PIT regionale Barbetti Il piano di indirizzo territoriale della regione è illegittimo e penalizza il nostro territorio Ci opponiamo nell'interesse di tutti gli elbani Sanità, Ferrari scrive ai sindaci bene l'alleanza Cecina-Piombino Portoferraio promuove un sistema di condivisione delle risorse aziendali L'unico mezzo oggi per mantenere adeguati livelli assistenziali ai propri cittadini Gli stagionali in piazza, l'elba guida la mobilitazione Coperta da fondi nel 2015, nel 2016 il taglio drastico delle indennità I lavoratori manifestano a Roma, l'elbano Cafagna, leader della protesta Presto nuovo consiglio comunale sull'isola di Monte Cristo Lo spostamento della sede è uno dei punti all'ordine del giorno, mercoledì alla biscotteria L'11 ottobre, data probabile della seduta, avverranno dalla prima Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione dell'isola d'Elba Questa sera in apertura parliamo di Capoliveri Il comune ricorre contro il PIT regionale e lo fa rivolgendosi al Quirinale Il sindaco Ruggero Barbetti dice che il piano di indirizzo territoriale della regione è illegittimo E penalizza il nostro territorio Barbetti aggiunge che ci opponiamo al PIT nell'interesse di tutti gli elbani Il piano di indirizzo territoriale della regione toscana deve essere rivisto e corretto E' quanto ha chiesto ufficialmente il comune di Capoliveri attraverso un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato in questi giorni contro la regione toscana Le contestazioni avanzate dal comune guidato dal sindaco Ruggero Barbetti riguardano una parte sostanziale del piano che di fatto impedisce interventi sulle strutture ricettive collocate in prossimità del sistema costiero andando ad incidere negativamente sull'economia turistico-ricettiva del territorio Abbiamo dovuto prendere atto, spiega Barbetti, del fatto che il piano non tiene minimamente conto delle caratteristiche geomorfologiche delle diverse realtà toscane applicando indistintamente sulla costa tirrenica, così come sulla nostra isola grosse limitazioni per tutte quelle strutture ricettive e sono la quasi totalità che insistono nella fascia di 300 metri dalla battigia Il piano così concepito, precisa ancora il sindaco di Capoliveri impedisce che sul patrimonio edilizio esistente degli alberghi possano essere effettuati interventi che comportino un incremento complessivamente maggiore del 10% dell'esistente ed un vincolo ancora più stringente va a colpire campeggi e villaggi turistici ai quali è concesso un incremento non superiore al 5% Non chiediamo nuova ricettività sul fronte mare, continua il sindaco di Capoliveri ma chiediamo di poter adeguare le strutture ricettive alle nuove necessità che di volta in volta vengono richieste da una clientela sempre più esigente in termini di comodità dei moduli abitativi e dei servizi in genere La regione, conclude Barbetti, ha avuto fretta di approvare questo piano di indirizzo territoriale tanto che non se ne capiscono neanche le motivazioni e le risposte date fino ad oggi si sono rivelate decisamente inadeguate A questo ci opponiamo, nell'interesse di tutti gli elbani Parliamo ora di sanità Il sindaco Mario Ferrari scrive ai sindaci della Val di Cornia e della provincia di Livorno e dice bene l'alleanza Cecina-Piombino Portoferraio quindi promuove un sistema di condivisione delle risorse aziendali L'unico mezzo, dice Ferrari, è che c'è oggi per mantenere adeguati livelli assistenziali ai propri cittadini Il sindaco di Portoferraio Mario Ferrari ha scritto ai sindaci della provincia di Livorno per esprimere il suo compiacimento per la condivisa decisione di dar vita a un'area sanitaria rappresentativa dei territori di Cecina-Piombino nella convinzione che la condivisione delle risorse aziendali sia oggi l'unico mezzo per mantenere adeguati livelli assistenziali ai propri cittadini Il sistema sanitario toscano, si legge, sta vivendo una fase trasformativa importante che solleva non poche perplessità e origina dubbi per una soddisfacente funzionale sopravvivenza dei servizi sanitari nelle zone più decentrate e quindi nei piccoli ospedali Il progetto politico che voi avete programmato e condiviso, continua può essere un valido sistema per evitare un ulteriore frazionamento, impoverimento ed allontanamento dei servizi sanitari dai cittadini più lontani dai grandi centri e nello stesso momento rappresenta un modello valido di integrazione tra economicità, funzionalità ed efficienza che permetterà di mantenere attive ed operanti forze professionali di eccellente validità Con questa sincera convinzione, scrive Ferrari mi auguro che a questa fase progettuale politica faccia seguito quanto prima un intenso lavoro anche organizzativo che coinvolga forze politiche, organizzazioni sindacali e operatori sanitari si dà a realizzare in tempi brevi una concreta funzionalità del progetto da voi ideato Torniamo a parlare di Portoferraio presto un consiglio comunale del capoluogo elbano potrebbe svolgersi all'isola di Monte Cristo Lo spostamento della sede infatti è uno dei punti all'ordine del giorno previsto nella seduta consigliare di mercoledì prossimo appunto alla biscotteria La data utile per il consiglio a Monte Cristo sarebbe l'11 ottobre prossimo ad un anno esatto da quello che si è svolto subito dopo l'insediamento del sindaco Ferrari Secondo consiglio comunale di Portoferraio a Monte Cristo a un anno di distanza dalla prima seduta il sindaco Mario Ferrari ha deciso di celebrare una seduta del consiglio comunale nell'isola Gioiello dell'Arcipelago che cade sotto la giurisdizione del suo comune Lo spostamento della sede consigliare a Monte Cristo sarà discusso nel prossimo consiglio comunale che si terrà mercoledì prossimo alle 16.30 nella sala consigliare della biscotteria Tra i vari argomenti che saranno trattati la revoca della convenzione tra Portoferraio e Marciana Marina per l'utilizzo in forma associata della prestazione del segretario generale Michele Pinzuti e la trasferta a Monte Cristo la data utile per il consiglio è l'11 ottobre in prima convocazione il 18 in seconda date che coincidono con la gita annuale organizzata dal Parco dell'Arcipelago Toscano a favore dei residenti dei comuni elbani Parliamo ora della Naspi gli stagionali sono in piazza e l'Elba è in prima fila guida la mobilitazione coperte dai fondi nel 2015 però nel 2016 le indennità subiranno un taglio drastico i lavoratori per questo manifestano a Roma e l'Elbano Cafagna è leader della protesta non è finita la battaglia degli stagionali le rassicurazioni da poco arrivate sui fondi per il 2015 non soddisfano le migliaia di lavoratori che soprattutto nel settore del turismo sono occupati solo per alcuni mesi all'anno e negli altri riscuotono un'indennità ora sostanzialmente tagliata ridotta nel tempo dai provvedimenti governativi sul lavoro dal 2016 si prospetta un sostanziale dimezzamento del sussidio cosa che mette in pericolo i bilanci familiari di tanti la mobilitazione degli stagionali prosegue il 12 novembre manifesteranno a Roma davanti alla Camera e a guidarli ci sarà Giovanni Caffagna dall'Elba che via Facebook attraverso una pagina che ha già raggiunto i 27.000 iscritti dialoga con rappresentanti delle istituzioni e deputati il sit-in romano inizierà alle 10 del mattino le proposte degli stagionali comprendono una sorta di servizio civile nei mesi di riscossione della NASPI gli stagionali potrebbero mettersi a disposizione delle amministrazioni locali per lavori di pubblica utilità ben ritrovati in studio e parliamo ora di un incontro che si è svolto sabato pomeriggio dal Libraio un incontro con Francesco Pira che ha detto all'Elba c'è grande spirito del luogo e una grande opportunità con i social Pira, sociologo e giornalista è stato ospite di un incontro organizzato dal Libraio a cui ha partecipato anche l'amministrazione portoferraiese e proprio il vice sindaco Marini ha detto presto un convegno su questi temi si è parlato di comunicazione sabato pomeriggio dal Libraio con Francesco Pira e il suo libro Comunicazione pubblica e di impresa Francesco Pira come ci dobbiamo come dobbiamo comunicare nell'azienda nell'impresa e anche nel pubblico Ma noi abbiamo voluto in questo libro insieme ad Andrea Altinier cercare di definire un po' una cassetta degli attrezzi che fotografi anche il particolare momento storico la globalizzazione la crisi economica ci hanno portato a cambiare i modelli di comunicazione istituzionale ma anche di comunicazione di impresa oggi c'è bisogno più che mai di comunicatori che siano professionalmente molto validi e soprattutto c'è bisogno di una buona strategia Una nuova sfida anche sul web e sui social Abbiamo voluto calare la realtà nuova dei social network in tutta la tematica della comunicazione pubblica e di impresa quindi io credo che i social stiano rivoluzionando completamente tutto la nostra vita è totalmente cambiata bisogna però essere molto attrezzati soprattutto lo dico anche a chi fa il giornalista quindi quotidianamente si trova a distinguere tra le bufale e le cose serie vi faccio un esempio la BBC ha 24 giornalisti che ogni giorno lavorano solo per scoprire quali sono le bufale che viaggiano sul web ecco forse è importante ripensare non al giornalismo ma ai tanti giornalismi che tutti i giorni abbiamo davanti Un consiglio? Io credo che imprese e istituzioni devono anche se capisco che è un momento molto difficile trovare il modo di investire ci sono anche degli esempi elbani che sono a mio parere positivi penso per esempio alla comunicazione territoriale di Acqua nell'Elba che in qualche modo è stata capace di portare l'immagine dell'Elba in giro per l'Italia e per il mondo sfruttando anche il brand Insieme ad Aurora Cerdelli e Franco De Simone di Confesercenti che hanno introdotto l'autore il vice sindaco di Portoferraio Roberto Marini che ha auspicato nei prossimi mesi un convegno di studio e comunicazione che veda pira tra i relatori Ha creato un sistema un progetto di comunicazione che tiene conto non solo di quello che è sul web e sui social network ma di una piattaforma complessiva a cui si rivolge l'intera comunicazione e da cui attingere agli strumenti necessari ad andare a comunicare sia per la pubblica amministrazione sia per i privati parte della sua professione è dedicata anche a distruire gli amministratori lo fa a livello parlamentare è stato al fianco del presidente della regione toscana quindi senza altro chi fa politica chi soprattutto al di là della politica amministra un comune deve relazionarsi con la propria cittadinanza con i propri elettori e comunque con tutto il contesto dei residenti deve saperlo fare nella maniera giusta andare anche a risolvere alcuni dei problemi che la gente si aspetta che vengano risolti dall'amministratore parliamo ora del Moon Festival la gioiosa invasione cinese che si è svolta a Porto Azzurro nella giornata nella serata di ieri il paese ha accolto un folto gruppo appartenente alla comunità di Prato che è sbarcato all'Elba per celebrare quella che per il popolo cinese è una delle solennità più importanti dell'anno Porto Azzurro per una sera diventa una festosa colonia di Pechino un folto gruppo di cinesi la sera di domenica 27 settembre ha scelto di celebrare proprio nel paese albano la festa della luna fra le maggiori solennità del paese erano circa 200 sbarchati a Porto Azzurro con un grande yacht e a loro si sono aggiunti molti italiani l'evento è stato organizzato da un importante tour operator con sede a Prato e ha ottenuto il patrocinio dell'amministrazione comunale il paese è stato tappezzato con lanterne folcloristici biglietti di aguri e bastoncini luminosi e la festa si è conclusa con i fuochi d'artificio sul molo del Porto e la luna ha fatto la sua parte luminosa e piena come non mai ben ritrovati in studio e parliamo ora di sport è ben riuscita la manifestazione di altissimo livello quella che si è svolta a campo con i super atleti di Elbaman ha vinto la Kiberlage è stata quindi una manifestazione pienamente riuscita in questo settembre elbano riuscita e anche molto partecipata al traguardo fa il bis e il record di gara il belga già vincitore il belga Laki Berlage ha vinto la undicesima edizione di Elbaman Triathlon stabilendo fra l'altro il nuovo record della gara nella gara sulla half distance vittoria fra gli uomini dello svizzero Gabriel Opf e fra le donne l'italiana Marta Bernardi è stata una competizione di altissimo livello Laki Berlage concorrente della gara di triathlon lungo è riuscito nel suo intento aveva anticipato di voler battere il record detenuto dall'atleta Alessandri dal 2007 ovvero di riuscire a raggiungere il traguardo in meno di 9 ore 39 minuti e 20 secondi e così è stato dando un distacco di circa un'ora agli altri partecipanti Berlage ha conquistato il primo posto con lo straordinario tempo di 9 ore 26 minuti e 15 secondi ottima gara anche per gli altri atleti Caroline Hornengel che è di nazionalità tedesca impegnata nella competizione Iron in campo femminile ha tagliato il traguardo con un tempo di 11 ore 40 minuti e 3 secondi purtroppo durante la gara Almuth Gruber sua connazionale che era in testa durante la prima parte della competizione a causa di una brutta caduta è stata costretta al ritiro primo posto italiano invece nel triathlon medio con la Marta Bernardi Atletica Toscana che ha staccato di circa 15 minuti la sua rivale francese Céline Carrez competizione più dura per gli uomini che hanno gareggiato nel triathlon medio Gabriel Hopf atleta svizzera è arrivato primo al traguardo ottenendo un vantaggio di pochissimi minuti rispetto agli altri due concorrenti Andrea Riva e Stefano Luciani entrambi italiani classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto la gara partita all'alba alle 7 del mattino e terminata soltanto a pochi secondi dalla mezzanotte si è svolta sotto una calda giornata di sole con il contorno della spiaggia di Marina di Campo ancora affollata dai numerosi turisti che si trovano in questo ultimo weekend di settembre all'isola d'Elba torniamo ora a parlare del rally Elba storico con i numeri e i grazie tutto appunto a motori spenti l'edizione 2015 ha chiuso con 123 adesioni 14 nazioni straniere rappresentate e circa 9.000 presenze contate nei giorni di gara sull'isola numeri che raccontano un successo per la gara ma anche per il territorio una settimana dopo il termine del rally Elba storico è tempo di bilanci certamente da scrivere con il segno positivo importante la risposta degli equipaggi ma ancora prima lo è stata quella dell'intera isola d'Elba per la cui immagine il rally è sempre stato pensato l'edizione 2015 ha espresso numeri importanti ben 123 adesioni in totale 14 nazioni straniere rappresentate e circa 9.000 presenze contate nei giorni di gara sull'isola numeri importanti che definiscono da soli un successo per la gara stessa ma anche e soprattutto per il territorio con evidente ricaduta economica per esso in tutto questo parte importante l'hanno avuta coloro che hanno lavorato dietro le quinte affinché l'evento potesse proporsi ancora una volta alla sua massima espressione quindi tutti gli ufficiali di gara tutto il personale addetto in ogni e qualsiasi mansione ed ovviamente loro gli equipaggi che sicuramente hanno dato lustro alla competizione Aci Livorno Sport che organizza l'evento vuole quindi ringraziare tutti dalle singole persone alle amministrazioni locali che hanno sostenuto l'evento il rally Elba Storico 2015 concludono gli organizzatori va in archivio certamente con la certezza di aver tracciato un'altra annata importante della sua storia punto di partenza per altre edizioni future pronte a dare la continuità al lavoro svolto sinora ed è tutto anche per questa edizione del nostro giornale grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e a tutti un buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti